Un saluto come state, ben ritrovati, buon sabato, buon weekend, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi in questa zona se non avete ancora fatto, qualsiasi squadra voi ti fiate. Video in cui parliamo di Milan, di Rinnovi, un'indiscrezione molto molto importante, che è stata riportata anche dalla Gazzetta, che trova conferme, ovviamente serve prudenza sul tema Rinnovi, i tifosi di Milan lo sanno molto bene, però il discorso con Ben Nasser sembra di fronte a una possibile svolta positiva. Il Milan aveva offerto 3,2 milioni prima delle voci Investcorp che poi avevano portato all'approdo di Redbird, che poi si è insediato, il suo agente Musasco, che è un soggetto molto particolare, ha nel frattempo alzato le richieste e adesso, insomma, il Milan dopo aver rinnovato Calulu vuole chiudere la questione Ben Nasser prima di Natale con una proposta che dovrebbe girarsi intorno ai 4 milioni di euro con dei bonus. Il Milan ritiene che questa potrebbe essere l'offerta giusta per convincere Ben Nasser e quindi c'è fiducia. Ovviamente la fiducia lascia che il tempo che trova senza la firma, però ecco ci sono buone possibilità di arrivare a un accordo con Ben Nasser prima della fine di questo anno, prima di Natale, approfittando del fatto che il giocatore algerino non farà la Coppa d'Africa e quindi si proverà appunto a trovare la quadra in tempi brevi. Quindi giocatore che per quanto mi riguarda è insostituibile, quando manca lui al Milan si vede, per caratteristiche non ci sono giocatori come lui, tant'è che il Milan su Gennaio vuole provare a prendere anche un'alternativa, non per farlo partire ma per avere insomma un giocatore con quelle caratteristiche, qualora lui non ci fosse o per farlo riposare ogni tanto. Dunque fiducia rinnovata su Ben Nasser che potrebbe essere il nuovo rinnovo dopo quello perfezionato qualche giorno fa di Caluru. Discrezione molto importante che può far ben sperare i tifosi del Milan per un giocatore top di questa squadra. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi, commentate numerosi qui sotto, iscrivetevi sul logo L se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like qui sotto. Mi raccomando vi aspetto numerosissimi.